La fortuna del cinema italiano perché a parte un primo momento in cui venivano snobbati dalla critica e dai salotti bene poi si sono tutti dovuti ricredere grazie agli incassi e ai numeri che si facevano ai botteghini e questo ha permesso anche da parte dei produttori di porre l'attenzione verso il cinema d'autore per cui hanno fatto circa un centinaio di film insieme e poi una decina da soli. La magia di questa coppia è che passano i decenni ma resta ancora attuale tutta la loro produzione. Non solo resta attuale ma viene costantemente riproposta per fortuna con numeri abbastanza importanti a parte del gradimento del pubblico perché comunque rappresentano un momento della comicità in cui si riusciva a ridere senza volgarità, senza parolacce in un modo assolutamente genuino senza per forza mettere in campo chissà quale pensiero politico o particolarmente diciamo così articolato. Ecco, riuscivano ai tempi loro e riescono ancora tutt'oggi quindi questa è la cosa bella che ci fa onore. Non è soltanto un momento di ricordo ma è anche un momento di riconoscimento al merito perché appunto loro hanno fatto da pripista a tanti altri sodalizi poi artistici come Coppie che sono avuti dopo. Ne vogliamo citare qualcuno come per esempio Libassi e Sabato piuttosto come Burruano e Civiletti che tra l'altro li hanno sostituiti in Rinaldo in campo. Tanti altri fino ad arrivare ai giorni d'oggi a Ficarre Piccone e anche quelli più nuovi come i Soldi Spicci e i Sansoni. Che vedremo stasera in particolare? Stasera vediamo un viaggio, un percorso nella memoria da quando Franco Franchi iniziò appunto alle spalle del Teatro Biondo a fare il Teatro di Strada fino ai grandi successi. Ripercorreremo anche alcuni momenti salienti della Targa Franchi in Grazia della prima edizione 2023 che è stata svolta appunto a dicembre alla Sala de Seta con tanti altri che hanno partecipato e tanti contributi ed interviste che ricordano appunto la loro memoria. Grazie a tutti.